La Sant'Egidia si riparte da Carlo Fabrizi, nuovo presidente. Sì, la società praticamente si è riunita, abbiamo fatto un summit della società e la società è sempre la stessa e rimane gli stessi personaggi, c'è solo un cambio di poltrone. Io sono diventato e sono così, sono soddisfatto di poter rappresentare questa nobile società di calcio. Abbiamo praticamente il nuovo vicepresidente Paolo Puzzielli, il segretario Ippoliti Andrea e il direttore generale con la carica che già aveva è rimasto Danilo Nardinocchi. E poi c'è la riconferma dell'allenatore in panchina. Conferma dell'allenatore perché mi sembrava giusto e lo ringraziamo per aver accettato di rimanere con noi con questa sfida sicuramente che andiamo a fare, che non è così facile perché ci sono delle squadre veramente attrezzate. Quindi confermato Cicchella. Noi il nostro obiettivo naturalmente che abbiamo fatto e abbiamo concluso, abbiamo l'accordo con l'allenatore e l'obiettivo da raggiungere è la salvezza al più presto possibile. visto che l'anno scorso siamo arrivati un po' con un passo lungo fino alla fine dei play-out. Il mister ha accettato la sfida che noi gli abbiamo proposto con ragazzi di una squadra abbastanza giovane. Poi ci sono dei nuovi acquisti che abbiamo già uno confermato che è Lino Petrolio e l'altro è un difensore centrale, un difensore di sinistro che è Albanese. E poi ci sono anche altre conferme. Altre conferme sono il fuoricuoto a Grazioli e il portiere Traini. Poi stiamo ancora finendo di allestire la squadra.